Noi abbiamo la fortuna di poter realizzare questo secondo progetto in realtà su questo territorio dedicato nello specifico proprio alle persone con demenza, Alzheimer e altre tipologie di demenze e con un'attenzione particolare non solo alla persona con la patologia ma anche ai caregiver e a tutto il contesto familiare. L'assistenza agli anziani con patologie neurodegenerative diventa digitale. Alle consuete cure tradizionali sono raffiancati servizi telematici. Si potrà chiedere un consulto anche su Facebook. In questo progetto Digital Care, lo dice il nome stesso, c'è una forte spinta verso la digitalizzazione di alcuni servizi. Questa è una scelta che ci è stata in qualche modo dettata proprio dalla situazione attuale di emergenza pandemica che richiede di poter dare una continuità dell'assistenza, quindi garantire la continuità dell'assistenza anche attraverso teleassistenza e servizi digitali. Ovviamente il tutto è integrato anche con un'assistenza più tradizionale. Almeno 50 le persone che nell'ambito di questo progetto riceveranno assistenza. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa congiunta con esponenti delle amministrazioni di Chieti e Francavilla al mare. Sono due ambiti territoriali, due ambiti sociali e territoriali che comprendono diversi comuni e quindi diciamo stiamo cominciando a progettare insieme e queste esperienze ci aiutano fondamentalmente anche per le sfide che arriveranno a breve del PNRR Missione 5 che ci impongono tra ambiti di collaborare attivamente per poter portare avanti dei progetti in modo efficiente e efficace e dare risposte concrete al territorio.